e c'è chi fa lo sbaglio irrecuperabile poi se volete dirette particolari voi scrivetemi in DM ma la prima cosa che dovete fare è attivare le campanelle perché ricordate che siete il mio supporto, mi vedete le storie, mi commentate in tanti, in tantissimi ma ho bisogno pure che voi interagiate con me nell'immediato perché sennò poi mi si accavallano i messaggi e io poi dopo per fare una scrematura e tutto quanto non è facile perché quando poi comincia a salire il profilo e voi siete testimoni perché rispondo ad uno in privato poi quando si cresce col profilo mi risulta difficile ok raga? cosa ne pensi? non riesco a contattare Cicalone perché se vuoi che facciamo un video con il signore croato posso aiutare ad essere il traduttore? beh contatta me o contatta Evelina perché non c'è problema dimmi ma perché sei croato? Stefanino Forte ciao fratello mio ciao Gigi ti seguo da quando fai i video con il Cicalone siete forti? grazie Nichetto